C'è un altro cadavere in un appartamento del centro. Stesso assassino. Ne ha tagliato la gola con freddezza. La messa in scena è precisa. Strani omicidi richiamano leggende ancora vive. L'assassino portava i guanti. Nessuna traccia sulla vittima. Ma l'apparenza non è sempre un valido indizio. Per un luogo, un delitto. Delitto a Tahiti. Martedì 21.10. Top Crime.